Ancora una fake news si fa forte nel web, questa volta ad essere preso di mira, è il popolare cantante Rafa, nelle scorse ore, è stato dato per morto a seguito di una malattia. Si tratta di un video che è stato pubblicato su YouTube da uno dei molti canali spam che grazie a titoli clickbait cercano di raccimolare visualizzazioni. Il video è stato pubblicato nella giornata di domenica e sembra che in tanti si siano affrettati a segnalarlo alla notta piattaforma. Una vicenda che ricorda molto quella di Marco Columbro avvenuta solo qualche mese fa. Rafa in realtà sta benissimo e ovviamente si augura che questi canali YouTube vengano tolti a breve dalla piattaforma.